Inaugurata a Bologna nel quartiere San Donato una nuova sede del Partito Comunista dal segretario generale Marco Rizzo. L'obiettivo è farne un centro di iniziative, di organizzazione, solidarietà per i giovani e le varie categorie dei lavoratori. Durante l'inaugurazione Rizzo ha evidenziato la necessità di rompere il patto di stabilità sia per l'Italia sia per i comuni per uscire, ha detto, dalla gabbia europea.